Ciao, chi siete? Io sono Perdonando Magellano Io invece amarego Pasconcio Quando siete nati? Io sono nato il 4 febbraio 1480 Io invece il 9 marzo del 1454 Dove siete nati? Io sono nato a Sabrosa in Portogallo Io invece nella bellissima Firenze Per quali sovrani navigavate? Per il re di Spagna Carlo V Io invece per Ferdinando II d'Aragona Qual è stata la vostra data del viaggio? Io sono partito il 10 agosto 1519 Io invece sono partito nel 1508 e ho finito nel 1512 Che mai avete percorso? L'Oceano Pacifica L'Oceano Indiano e l'Oceano Atlantico E invece l'Oceano Atlantico Che terra avete visitato scoperto? Io ho visitato il Brasile, la Terra del Fuoco e le Filippine Io invece sono l'America Dette curiosità su di voi? Io ho fatto la circuna navigazione nel mondo Io ho dato il nome al nuovo continente A che età siete morti e di cosa? Io sono morto il 27 aprile 1521 Ucciso dagli indigeni a 41 anni Io invece sono morto il 22 febbraio del 1512 A 51 anni di malaria E' un'ебic retta del 152 Ok? E' un'obbligo? Ok? E' un'obbligo? Un'obbligo?